Musica E comunque a scuola ho preso un bellissimo voto di scienze, ti ricordi quello che mi aveva aiutato? Ah sì, quel ragazzo lì Sì, quello lì, proprio, sono stata proprio brava, sono stata proprio contenta Guarda un po', ma cosa stiamo facendo, un trasloco? Beh, o è quello, stanno svaliggiando una casa Dai, andiamo a vedere Andiamo Oh, ma guarda questo quadro, probabilmente durante il trasloco si sarà rovesciata della terra Ma piantala, è una vera opera d'arte questa Arte? Io sono Kat e lui è Albert, piacere? Piacere, Fabio Piacere State guardando il mio quadro? Sì, io la trovo magnifica, ad Albert non piace Ma no, non è vero Ma non importa, tranquillo, non a tutti piace la mia arte, però sai, in fondo tutti siamo degli artisti Ma lo sai che noi siamo dei veri artisti? Davvero? Stiamo costruendo un robot Sì, ma non è che sia proprio ancora completo Per esempio, gli mancherebbero gli occhi per vedere il tuo stupendo capolavoro Per la borsa però ho qualcosa di fatto che le aspettate Ecco, questi sono degli occhi che ho inventato io personalmente E sono fatti con un tipo di vernice che permette di vedere oltre le cose Se volete ve li legate Sì, fantastico Grazie, potrebbero tornarci utili A robot concluso te lo faremo vedere Grazie 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 a tutti.